Sono spiazzati! O che per loro è oscenamente unito, che chiedono a Grillo di mollare Casaleggio, al Movimento 5 Stelle di mollare Grillo e a tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle per passare al sol dell'avenire delle notti polari del PD-L. Attacco anche per gli ex, quelli che Grillo ti ho votato ma dopo che sei passato con il rosso, con sprezzo delle istituzioni, non ti voto più. Oppure Beppe, ti ho seguito dal primo V-Day ma il tuo autista, si legge in giro, è un narcotrafficante, addio al mio voto. E giù mazzate, da questa brodaglia, i telegiornali e i talk show colgono fior da fiore con lerci e studiati copie in colla per spiegare che Grillo è un eversivo, che il Movimento 5 Stelle è spaccato. Dato che nel blog chiunque può commentare, scrive Grillo, ciò non vuol dire assolutamente nulla. Ma le tensioni nei rapporti con il PD e con gli altri partiti non sono solo argomento per imbrattature digitali. In un post del mattino Grillo attacca Piero Grasso, unico procuratore antimafia stimato da Berlusconi, e Laura Boldrini. Il titolo? Nominati e rinominati, da leggere come una chiusura a doppia mandata del Movimento 5 Stelle a ogni dialogo con Bersani e il PD. Grazie.